Mi chiamo Piervaldo Rostan, ho un'azienda agricola e un agriturismo a 2 km circa dal ponte della Bertenga. La prima alluvione di cui ricordo io bene e nettamente è del 1977, dopo 23 anni nel 2000 un'altra alluvione, poi 2008, 2011, 2016, negli ultimi 15-20 anni un alluvione di 4-5 anni. Ogni volta il patema di non poter passare sul ponte è il rischio che crollasse. Quando partivamo il mattino una giornata di pioggia non sapevamo se saremmo potuti ritornare a casa la sera oppure se il guado che è poi stato fatto sarebbe stato chiuso. Finalmente col ponte questi pericoli sono finiti. Il ponte Bertenga si è inaugurato il 27 di luglio e è immediatamente transitabile. Siamo estremamente soddisfatti di avere quest'opera pubblica finita, percorribile, agibile, che finalmente risolve un problema atavico da lontano 1947. Già si discuteva in consiglio comunale del ripristino del ponte Bertenga. Quindi finalmente si riesce a concludere un'opera sentita, voluta da tutta la comunità di Torre Pellice. Tutto ciò grazie a Regione Piemonte, città metropolitana, comune, che in questi lunghi otto anni, da quando il ponte crollò per l'ultima volta nel 2011, hanno potuto e hanno saputo lavorare in sinergia insieme per fare in modo che oggi i nostri cittadini avessero quest'opera. Sono nato qua nella valle e in questa parte del comune di Torre Pellice, in via Inversovo Landi. Il mio primo ricordo di un'alluvione veramente molto devastante fu nel 1945, avevo allora dieci anni. Si sono trovate nel tempo delle soluzioni, ma sempre un po' precarie. Oggi abbiamo la gioia di vedere invece una soluzione che personalmente ritengo definitiva. Penso di interpretare anche il pensiero di tutti i residenti di questa zona di Torre Pellice. Un debito di riconoscenza verso tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera. Personalmente esprimo la mia gioia, oltre alla mia riconoscenza, perché veramente, passando sul ponte poco fa, mi sono veramente emozionato. Perché, dico la verità, non mi aspettavo un lavoro simile. Un ponte l'aspettavamo, ma di questa dimensione non avevo neanche l'idea che si potesse realizzare un'opera simile. Quindi, a nome di tutti gli Inversenghi, come diciamo noi, un grande grazie a tutti, compresa anche la ditta che ha lavorato per quest'opera. Grazie a tutti.